Purtroppo per la Spagna torna il lockdown precisamente in Galizia. 70.000 abitanti nella regione della Spagna ubicata al nord-occidente da qualche giorno di tempo sono di nuovo confinati nelle loro abitazioni per un improvviso focolaio scoppiato formato da più di 100 casi. Il virus sta rialzando la testa un po' in tutta la Spagna. La Generalitat Catalana ha deciso di mettere in quarantena nei loro casi gli abitanti di ben 38 piccoli comuni ubicati nella provincia di Segria che contano la bellezza di circa 209.000 persone a fronte dell'aumento di casi di coronavirus già registrati negli ultimi giorni di tempo. Sono in totale 9 i focolai attivi solo proprio in quella piccola fetta della Catalonia della Spagna. Polizia e la Mosso Squadra si sono mobilitati nelle strade pronti a multare nei confronti di chi vada a contravvenire alle nuove disposizioni o meglio alle nuove misure. Alla popolazione dei nuovi comuni tornati all'ottavo sono permessi i movimenti solo per effettivi motivi, comprovati motivi di lavoro, vietati gli assembramenti con più di 10 persone. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto di Recaro D'Aleandro, narratore italiano.